Abbiamo individuato quattro punti fondamentali. La prima ovviamente è l'apertura del COC, Montesilvano già l'ha fatta, che sarebbe il centro operativo comunale perché ci sono tante persone in autosolamento, tante persone sono in quarantena a casa, sono in difficoltà dal punto di vista economico, anche e soprattutto di andare a fare la spesa. Ecco, attivando il COC si potrebbe ripristinare questa situazione di fatto. La seconda è la Costituzione, una campina di regia fatta sicuramente dagli assessori competenti, in questo caso noi abbiamo l'assessore nostro di riferimento del partito, che è l'assessore Dinizio, che ha proprio la delega specifica all'ascolto del disagio sociale, unitamente ai capigruppi di maggioranza e perché no? Dico al sindaco di coinvolgere anche l'opposizione perché l'opposizione rappresenta l'altra parte della città, per cui confrontarsi è sempre meglio, a differenza di quello che ha fatto il governo Conte, che le opposizioni le ha consultate soltanto e esclusivamente quando stava per apporre la firma, non certo nella creazione del DPCM. Poi ovviamente una Costituzione di fondi, perché riteniamo che il Natale in questo momento storico debba essere fatto un po' anche sotto tono, certo non bisogna dimenticare i tanti pescaresi che questa realtà economica non la vivono, ma bisogna tener conto dei tantissimi pescaresi che vivono questa realtà di mancanza economica e quant'altro per esempio creare fondi dove queste persone possano attingere dal punto di vista economico.